L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Venezia in realtà ha creato danni anche a Padova e provincia, seppur in forma limitata. In città i problemi maggiori si sono registrati in zona Savonarola e via Palestro, dove il vento ha provocato la caduta di alcuni rami. Monitorata invece la situazione dei fiumi, anche dopo i fenomeni di acqua alta a Venezia, per capire se ci sia il reale pericolo di un innalzamento del livello dell'acqua, attualmente sotto il limite di guardia per Bacchiglione e Brenta. Al momento situazione è decisamente sotto controllo, anche se le piogge, previste anche nei prossimi giorni, inducono Comune e Protezione Civile a rimanere pronti ad eventuali interventi. Qualche problema in più nell'alta Padovana, dove si sono verificati alcuni blackout elettrici, specie nel territorio di San Giorgio in Bosco, a causa della caduta di alcuni rami sui cavi della media tensione, con i tecnici a lavoro per alcune ore prima che i collegamenti fossero del tutto ripristinati.